Cuorri Solidale è uno dei quattro progetti del PITER, di questo territorio. Si occuperà dell'accessibilità dei servizi sociosanitari in area montana e in area rurale, cioè territorio del Pinerolese e delle valli di Susa. L'obiettivo è quello di rafforzare tutti gli strumenti in mano alle comunità locali, di istituzioni e anche società civile per garantire un miglior accesso ai servizi alle persone fragili, in particolare anziani, adulti, malati, disabili. Lavoreremo quindi sulla domiciliarità, sul potersi avvicinare alle persone isolate nelle borgate attraverso figure come l'animatore sociale di comunità. Lavoreremo sul tema della mobilità sociale in sinergia con l'altro progetto CORDINAMIC, sempre dello stesso PITER. E lavoreremo anche sulla creazione di luoghi condivisi, cioè luoghi di aggregazione, di generazioni diverse, anziani, giovani, culture diverse. luoghi che possano diventare anche possibilità di informazione, possibilità di conoscenza sui temi del sociale per le persone fragili e non solo, per le loro famiglie. E luoghi che possono davvero diventare accessibili a tutti su grandi temi aggregativi, anche sulla possibilità di incontrare culture diverse.